E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! E' lo sfiato! Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo. Questa è la tua sfida. Questo è VRC3. Questa è la tua sfida. Questa è la tua sfida. Questa è la tua sfida. Grazie a tutti. 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 qui. Grazie a tutti.